Chi di voi SimRacer non conosce LFM Low Fuel Motorsport? Allora se c'è ancora qualcuno di voi che non lo conosce vi spiego rapidamente che cos'è Allora Low Fuel Motorsport è una comunità che dà la possibilità tramite delle licenze che si devono conquistare con una procedura da seguire vi dà la possibilità di accedere a dei server a cadenza programmata e questo sistema cerca di garantirvi di avere delle gare pulite e di avere delle series e visto anche il grande successo che sta ottenendo basta guardare i numeri qui dietro quasi 100.000 iscritti 39 milioni di giri fatti ci sono un sacco di server disponibili e tutta la sponsorizzazione basta andare qui eh Coach Dave, Mozza, Case King, Simu Cube vi danno la possibilità anche di avere degli eventi ufficiali sponsorizzati dove ci sono anche dei premi insomma LFM è ormai una realtà nel panorama del mondo della simulazione molto 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 importante e si gira su Assetto Corsa Competizione e su Refactor 2 e quindi sfruttano il modello riadattato del rating di iRacing perché comunque è un sistema, un'idea molto interessante proprio per tenere a bada i videogiocatori online perché il problema principale del multiplayer lo sappiamo tutti sono le lobby pubbliche dove si trova di tutto mi fermo qua non voglio andare a fare commenti perché tanto non servono a niente allora ma se tutti lo conoscono Fabrizio perché ci stai facendo sto video? perché vi voglio segnalare un altro sistema che si chiama Racecraft Online grazie a Rosario per avermelo segnalato, Rosario è un mio carissimo amico che mi ha detto Fabri ti piace Automobilista 2? Sì, ti piace il sistema di rating? Sì, guarda c'è Racecraft Online è una cosa simile a LFM, è meno popolato ovviamente, è gestita da due ragazzi che lo fanno per passione lo fanno nel tempo libero che hanno ideato praticamente la stessa cosa lo fanno con Automobilista 2 e con Assetto Corsa 1 proprio per venire a completare quei simulatori che non hanno il rating quindi come hanno fatto LFM per Assetto Corsa Competizione e per Refactor 2 e loro lo fanno per Automobilista 2 e per Assetto Corsa mi sono ripetuto ma era giusto per capire bene il sistema sono la quinta stagione quindi sono un po' in ritardo ma l'ho scoperto grazie a Rosario quindi non lo sapevo neanche, quindi non so se ho scoperto l'acqua calda per voi però intanto volevo proprio segnalarla il principio è lo stesso ragazzi, ci sono delle licenze si parte con ovviamente la licenza Ruki che si conquista con tre giri puliti con una macchinina, in questo caso in questa season se volete entrare sarà sul Taruma International bastereà fare pratisse e qui vi preparare al server e accedendo poi con il vostro account Steam ID e appunto al server dove vi indica in questo caso è il RCOP 14853 che riuscite a vedere qua fate i tre giri, vi convalida la licenza e poi potete partire per fare la vostra series e carriera la cosa figa è che danno le stesse possibilità di crescita come carriera quindi stesse possibilità di crescere come licenza ovviamente vedete silver, bronze, gold e ci sono ovviamente anche gli eventi programmati e quindi schedulati quindi all'eventi ad esempio c'è un historic Friday silver a Spa-Franco Champ del 1970 invece il giornaliero è il club racing rookie Taruma International dove è tutto indicato ovviamente e per accedere basta poi fare quando si ha la licenza registrarsi alla gara lui tramite il vostro ID Steam vi riconosce e vi fa entrare la bellezza comunque, quello che è molto interessante è che Automobilista 2 non è tanto popolato e quindi il server completa le griglie con l'intelligenza artificiale allora uno potrebbe storcere il naso ma secondo me invece è figo perché per rilanciare il multiplayer di Automobilista 2 che vi dico ragazzi è un peccato perché merita questo Automobilista 2 senza fare propaganda, pubblicità ai Reiza che non è che hanno bisogno di me però merita e se siete interessati a sapere perché merita scrivetemi nei commenti e io ragazzi vi faccio un video dedicato magari vi faccio vedere tutte le cose e che cosa offre questo simulatore quindi per tornare al discorso intelligenza artificiale la inseriscono perché se io sono da solo magari alle 18.40 non c'è nessuno almeno corro, mi faccio la mia serie la mia carriera online ad esempio e corro con qualcuno e in più si adatta anche alla media dei miei giri quindi è una IA adattiva è una cosa che secondo me dovrebbe essere ripetuta in tutti quei simulatori che magari non hanno tanta presenza online race room ad esempio che ovviamente è una questione di gusti ragazzi però è un peccato vedere anche quel giochino pure che è in DX9 dell'era della prehistoria però è un simulatore che offre comunque parecchio contenuto però l'online c'è poca gente o comunque molti server privati quindi secondo me un discorso così potrebbe anche rilanciare il multiplayer in questo senso qua niente ragazzi io volevo segnalarvi questa cosa qua perché questo race craft online perché trovo che è sempre una figata avere dei servizi così e magari potrebbe rilanciare il multiplayer di Automobilista 2 che piange parecchio devo dire la verità ed è un peccato quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto pollice in su lasciate un commento noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto grazie per avermi seguito un abbraccio ciao 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 ciao